io purtroppo non è che io ne posso parlare più di tanto di esperienze personali con giusto queste cose che mi hanno dato mo però defamia defamia c'ho tutto no io personalmente quello che ho fatto me lo sono accusato mi sono accusato i miei reati giustamente come ognuno penso che si prende le sue culpe ammetti proprio sbagli ammetti proprio sbagli per l'amor di dio però c'è anche il fatto che io sono accusato ingiustamente perché oh io sono sincero ho preso un'associazione giusto ma dà me un'associazione a me ma p***o io devo dire che non è un'associazione a delinquere ma basta che se più di tre persone ti danno un'associazione io calcolo in inizio di questa settimana aspettavo che la risposta all'istanza positiva doveva essere perché doveva arrivare la prima risposta positiva dopo sei mesi di istanze e aspettavo domani dopo domani invece mi hanno detto dobbiamo dobbiamo aggravare altro che risposta positiva magari frate magari c'ho la firma i rientri serali e l'obbligo di stare nel primo municipio che sono uno dei primi in italia che l'ha presa sta cosa perché non esisteva fino al 2020 sono uno dei primi in italia che si è preso l'obbligo di primo municipio che è stata fatta un'infamata da una pischella mi è stata fatta un'infamata da una pischella quindi per tutelare la pischella tra virgolette mi hanno dato tutte queste restrizioni ma non sanno tutto quello che c'è dietro non sanno c'è che c'hanno le pischelle dai in poche parole ti hanno dato una denuncia l'ha infamata te giuro te lo giuro io lo dico pure a loro io dico se mi dovete bere fino a due anni fa mo che cosa volete? cioè che cosa volete? bro io non facevo niente più da due anni da due anni che lavoravo stavo messo a posto bro mi capisci? mi sono venuto a prendere nel letto alle 4 del mattino mi capisci? io queste sere mi sto andando a dormire tipo alle 10 perché tanto so che mi imboccano le notte cioè lo so che mi stanno per venire a fare qualcosa dopo due anni ti sto dicendo? dopo due anni che ho lasciato perdere tutte mi sono venuto a prendere nel letto alle 4 del mattino eh lo so così lo sai un'altra cosa che mi dà fastidio? che tipo i miei parenti i miei parenti o i parenti di amici miei stretti stretti mi dicono mi dicono che che è anormale perché vedo nei video di quante volte vengono mi dicono è anormale che te stanno così addosso cioè con un carico pendente così piccolo piccolo tra parentesi perché poi so 10 la cosa mia purtroppo è che so tipo 10-15 broder lo sai dove si attaccano anche e si attaccano anche alla bella vita credi? lo so a me mi hanno scritto ha raccontato macchine di lusso ehm si attaccano bro si attaccano ma ditelo e te che ci posso fare niente mi magno eh ma così è bro il problema è però che hanno il potere tipo di tenermi 6 mesi bloccato così senza che so si bro ti sto dicendo io con un piccolo spaccio perché un piccolo spaccio mi hanno cancellato per 4 anni ok oppure amici miei calcolano l'anno scorso tutti hanno per 71 71 ma io ho alcuni amici là rupo conosco un po' di loro da che zona? perché ha taggato il chef Alessio ha taggato Damiano che ne sanno che stanno a parlare proprio di quei genitori aspetta oggi fanno tutto live carcerati vide carcerati social brodero basta che noi prendiamo un'altra associazione siamo a posto te lo dico Elia è un piatto Elia raga sono più più posta l'ossa allora pure io ho il padre degli arresti aspetta beh tutti carcerati comunque guarda che stiamo tutti così per davvero eh brother non ho più una ma poi come la penso io come dicono anche parecchi di loro a libertà a libertà a chi non le sa tu c'è una mamma la Damiano non ci sta la Damiano non ci sta lì è in grande sto sentito tutte le canzoni sopra la amore che faccio c'è un'altra drillata pesante pesante bro un'altra pezza quando esce mo' a breve mo' a breve il fatto è che lo devo registrare ora sta un po' incasinato lo stai lo stai un po' di limone se lo farà ancora un po' grazie dai che se Dio ce lo fa vedere voglio uscire in un tuo video se Dio me lo fa vedere se mi fa scena l'acqua quanto ti mancano tre in teoria eh brother in teoria se mi voglio fare i conti mi dovrei fare un altro anno e cinque sei mesi mi sconto i sei anni di conferma che ho perché poi mi chiamo anche i giorni giustamente su quattro anni su quattro anni e cinque mesi mi vado a chiamare i giorni faccio sei anni che stai bro non ho capito non ho capito che vuol dire che vai a a fa contare i giorni che hai detto ti chiami i giorni tu ogni anno di di carcerazione diciamo ti danno una buona condotta di tre mesi eh io facendo quattro anni mi devo chiamare un anno e due mesi grazie io pensavo valesse solo da dentro sta cosa no no anche i domiciliari perché io i domiciliari oramai sembra una galera non cambia niente brother vedimi hai permesso di uscire che c'hai nada brother io non scendo da tre anni da qui solo bro non c'hai permesso di uscire manco un'ora al giorno nada ho richiesto una visita al piede non me l'hanno accettata me l'hanno rifiutata una visita al piede ammetti di questa cosa a me mio zio quando è stato arrestato un'altra volta e io mi stavo io c'ho avuto un tumore tipo mi stavo operando di un tumore lui ha dato tutti i fogli dell'ospedale non gli hanno accettato manco di farmi venire a trovare l'ospedale cacca nada bro stava a strappare il braccialetto stava a fare un macello e poi bro se no ti vogliono far uscire non ti fanno uscire io per quello l'ho saputo che era stato bevuto perché mi ha detto io non sto venire all'ospedale perché non mi danno permessi non mi sto bevuto l'ha detto comunque è un macello ti giuro che è proprio un macello è un macello dai qualche giorno mi senti ti faccio una videochiamata in privata ti faccio conoscere anche un altro mio amico tipo va bene va bene ma senti una cosa ti volevo chiedere l'ultima cosa ma tu c'hai c'hai la cosa di non vedere nessuno non puoi vedere nessuno in teoria sì al di fuori dei familiari cioè anzi di chi hai nella residenza cioè sarebbe mio padre mia mamma e mia sorella al di fuori di loro io non potrei vedermi con nessuno cioè neanche i barbioli potrebbero venire però esatto chiammi che cosa mi hanno fatto quando ero stato bevuto all'inizio che mi avevano messo proprio tipo il primo mese dei domiciliari mio mi hanno detto che non potevo vedere nessuno e non avere contanti con l'esterno a me mi hanno sequestrato tutti i soldi anche il telefono lo puoi usare anche i social mi hanno sequestrato tutti i soldi il telefono e tutto quanto e mi hanno ributtato dentro casa ma io non sto dentro casa con la famiglia perché non ce l'ho la famiglia cioè mi padre sa sì sì lo so lo so non ce l'ho la famiglia quindi a me mi hanno buttato dentro questa casa dove mi hanno bevuto al centro mi hanno detto ma te rimani al centro ma io non avevo né un euro e né avevo la possibilità di chiamare qualcuno per farmi portare a mangiare in teoria manco lo potrei fare perché loro ti dicono di qualcuno quindi tu per non vedere no in quell'ora ad esempio dalle 8 di sera alle 8 di mattina tu non puoi avere a che fare con nessuno tra virgolette se tu hai quella restrizione arco-temporale di quell'ora tu puoi fare con nessuno hanno lasciato morire dentro casa di fame per loro sì sì ma loro non se ne fregono infatti tipo sono stato un mese un mese due mese non mi ricordo neanche appoggio reale ma non te ne dico bro è cioè inspiegabile cioè né capo né cura a me mi hanno detto che Regina Celia è una pure dei peggiori posti sì sì a Roma sì sì cioè ti sembra stai in un altro mondo ma Roma ai carceri di Roma so e vabbè senti fratellino mio dai se aggiorniamo se aggiorniamo è messato un bacione bella vale